Nuovo sistema di matchmaking Rainbow Six Benvenuto finalmente nella next gen del matchmaking Altro che Call of Duty e Black Ops 3 Noi abbiamo ben 40 minuti di attesa per partita Che figata Eeeh, scusate, io non so cosa è un MASHMAKING. Va bene, eh... Iscriviti al mio canale, faccio tanti gameplay di... Cosa aspetti? Joina anche tu la beta, e aspetta con gli altri due ore... PSSSIII! E' una cagata pazzesca! Telecamera. Beh, se qualcuno ha te, ormai tu ha... No, non ce l'ha nessuna Però se vuoi possiamo fare da qua, Isak Aspetta Sì, aspetta, tranquilla Mi faccio una anch'io Sfondo anche da qua, Giak ci sono Sì, non so, aspetta che vi spotto i nemici Stai qua, li faccio assaltare tutto Ok Merda, mi ha fatto fuori il drone Starebbe male Doc o Airbit Doc o Airbit? Sei una betoniera Eh, pensavi, eh? Asca Asca Era quello Era un brutto che però ha gracchiato poco Non lo so Devi arrivare No, ho spottato io, di nuovo Dove cazzo che mi sono? Ah, io l'ho tirata giù da un lato Ma non ce ne sono due esternamente Mi lagga Occhio Ma scusa, Fruiz Perché mi hai fatto male? Però vi capisco Per questo che non vorrei non capire Come li visco Ma come erano fanculo E' stato da due settimane ormai C'è da una settimana e mezzo Sì, devo adorare solo Ma che cazzo è successo? E che cazzo è? E' stato da due settimane 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 aiuto mi aiuti sono volato giusto al tetto eccolo la tua madre puttana eccolo ehi du, appena finito di vedere un video di video se vuoi divertite ancora a seguire Pruits e i suoi amici iscriviti al canale e ricordati di commentare e lasciare un viaggio se il video ti aiuto un saluto a tutti i mali